Vicepresidente Carloni, intanto le chiedo di fare un po' un riassunto di questa inaugurazione che per le Marche è stata particolarmente significativa e anche la relazione del Rettore ha identificato punti sulle quali le Marche sono avanti. E diciamo che oggi in una frase Marche Uberalles siamo riusciti a creare, grazie a questa sinergia istituzionale, grazie alla Fiera di Milano, ma soprattutto grazie al Ministro Giorgetti, un'attenzione, un focus, come è stato detto, sulla nostra regione. E lo dico con grande soddisfazione, ringrazio anche per le parole usate dal Ministro, dal Presidente Acquaroli, qui con il collega Guido Castelli e con Marin Angeli, Lucentini, con tutta la squadra istituzionale stiamo davvero cercando di riportare le Marche al ruolo che gli spetta per la dignità, per la dimensione, per la qualità e per la credibilità delle nostre imprese. Abbiamo in una parola tante microimprese ma che sono davvero grandiose, quindi questo ci responsabilizza perché dobbiamo farlo valere, dobbiamo riuscire a vendere questa credibilità sui mercati. Tradotto in politiche concrete stiamo valutando anche insieme alle altre regioni, prima parlavo con il collega Guidesi e con il Presidente Acquaroli, su come potremmo sfruttare i recovery per finanziare in modo strutturale le filiere. La supply chain del settore delle calzature è fatta di microimpresa. Non possiamo pensare che gli aiuti possono essere ancora dati solo alle aziende di medie dimensioni o alle aziende sistemiche, perché taglieremo fuori il cuore pulsante della nostra economia, taglieremo fuori le microimprese che hanno fatto il nostro tessuto economico. Quindi dobbiamo stare attenti nel cercare la sintesi solo su aziende significative, ma come stiamo pensando di fare noi, come il Presidente Acquaroli ha scritto nel programma, il nuovo modello economico per le marche è la filiera. L'epoca del metal mezzadro è finita insieme anche a un sistema del credito che l'ha travolta, nessuno si salva da solo nelle marche, tante piccole imprese si riescono ad unire, prima è stato fatto l'esempio da Prete sull'unione delle camere di commercio che ha portato al magnifico Gino Sabatini a guidare le camere di commercio delle marche, credo che quell'esempio sia l'esempio da seguire. Se il divisionismo continua a lasciare il segno, la nostra regione rischia di non essere più rappresentativa nei tessuti economici, mentre invece presi singolarmente i nostri imprenditori sono straordinari, ma rischiamo di perdere la guerra scollettivamente, la guerra della competizione, la guerra dei mercati, dove l'altro giorno ho incontrato l'assessore della Toscana dell'agricoltura e mi diceva che siamo riusciti a registrare il marchio Toscana, punto, per tutti i prodotti alimentari loro usciranno con un nome, che è il nome della loro regione. Noi su questo dobbiamo imparare a fare sintesi e lo facciamo puntando su un modello economico innovativo che è quello delle filiere, con il ministro Giorgetti e con lo sportello che è stato riaperto settimana scorsa delle piatti di sviluppo, noi possiamo ripensare ad un sistema di finanziamento pubblico che veda nella filiera il nuovo modello economico in cui fare trasferimento tecnologico, in cui fare finanziamento per renderli più competitivi, innovativi, esattamente su quelle traiettorie di innovazione che con gli uffici, con le università, come diceva Gregori, stiamo cercando di puntare. La nostra impresa è straordinaria, ha bisogno soltanto di una spinta per crescere, per diventare più competitiva, innovativa e per essere misuata in modo aggregato. Se riuscissimo a fare un'aggregazione di filiere le marche credo potranno essere in vetta in tutti i settori. Quindi questa secondo noi è la strategia e senza dilungarmi troppo, nelle prossime settimane coincidenza con il Porfese, coincidenza con il Recovery, metteremo in campo delle politiche anticicliche che servano a contrastare le perdite di questi anni. Il settore delle calzature, lo dobbiamo dire, purtroppo è uno di quei settori dove il segnale di ripresa, a differenza del mobile e di altri settori, non c'è in modo così marcato e quindi ancora di più ci deve vedere impegnati a sostenere questo settore. Ma a sostenerlo non con degli aiuti, con un stimolo alla crescita, alla competitività. Vice Presidente Fenni, Vice Presidente Carloni, a lei la chiusura e le chiedo anche se è ipotizzabile, come ho sentito prima, pensare a un marchio Marche. Le Marche come Marchio nell'eno gastronomia, in modo particolare nell'agroindustria, sarà fondamentale. Lo abbiamo fatto con il biologico, dove finalmente creeremo per primi in Italia un soggetto che parla di un'agricoltura sostenibile, etica e che diventerà un'opportunità per etichettare, georeferenziare un prodotto biologico che in teoria deve essere lasciato generalista. Noi cercheremo di dargli maggiore valore aggiunto. Voglio portarmi a casa da questa iniziativa un'idea della nostra regione che quando riesce a fare squadra, quando gli individualismi, i particolarismi diventano collettivo, alla fine siamo davvero forti. Oggi in questa fiera internazionale, che è una delle più importanti al mondo, si è parlato tanto della regione Marche e questo secondo me crea inevitabilmente un valore aggiunto per i nostri imprenditori. Io penso a un'idea della politica che è quella liberale, per cui la politica non deve fare impresa, non deve creare economia, deve creare le condizioni affinché si possa fare economia, deve favorire gli scambi, deve alleggerire il carico, il gravame amministrativo burocratico, deve cioè fare la sintesi tra la sapienza, chi fa la progettazione, chi ha strategia per avere tutti insieme una visione strategica da dare a chi fa impresa perché sa che la pubblica amministrazione, la regione, la camera di commercio, le aziende speciali con cui ci siamo confrontati, le università, tutte insieme vanno nella stessa direzione e se anche gli intermediari finanziari e le istituzioni superiori sanno dove le Marche stanno andando, io credo che saremo davvero molto forti. Quello che Acquaroli ci ha chiesto all'inizio di questo mandato, a questa squadra, è di dare una visione strategica, di non andare a caso sulle cose perché, come ha detto bene Guido, siamo di fronte alla più grande contribuzione pubblica della storia e la cosa che non possiamo permetterci è di sbagliare. Quindi sentiamo questa responsabilità e dobbiamo tutti insieme trovare la strada. Nessuno si salva da solo ma sono convinto che tutti insieme renderemo ancora più grandi i nostri produttori. Grazie, grazie ai miei ospiti, grazie a voi che ci siete.